Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di cronache e commenti, la trasmissione che vi racconta il Consiglio regionale attraverso le nostre telecamere. Andremo oggi a ripercorrere alcuni dei temi che sono stati toccati durante l'ultimo Consiglio regionale che si è svolto ad inizio maggio. Temi che riguarderanno anche l'estate perché si parlerà proprio di piscine, ma non solo, parleremo anche di altro e lo vedremo fra poco. Dunque non ci resta altro che dare il via ai temi principali che vedremo in questa puntata. Il Parlamento toscano ha approvato la nuova legge sulle piscine a uso natatorio. Si potranno svuotare ogni tre anni anziché ogni anno come avveniva fino ad oggi. Possibile estensione della misura Nidi gratis anche per Isee superiori a 35.000 euro è la proposta arrivata alla giunta regionale. Primo anno di Lucia Nibali come difensore civico della regione toscana. Nelle scorse ore la Commissione Affari Istituzionali ha fatto il bilancio dei primi 12 mesi. Evento su Matteotti a 100 anni dalla sua morte presso il Salone del Libro di Torino, nello stand della Toscana, presente anche il giornalista Aldo Cazzullo. Approvata all'unanimità la nuova legge riguardante le norme igienico-sanitarie delle piscine a uso natatorio. La novità più rilevante è quella della possibilità di svuotare le piscine una volta ogni tre anni anziché una volta all'anno. Grazie a prodotti appositi infatti l'acqua delle piscine può essere considerata sana e pulita anche con acqua già utilizzata attraverso trattamenti specifici. Il tutto è stato pensato per consentire un risparmio della risorsa idrica evitando gli sprechi. Credo che sia una questione di buonsenso, cioè con un'autocertificazione che in qualche modo rispetta però determinati parametri si può evitare di riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno ma farlo ogni tre anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che invece comporterebbe ogni anno e tutto sommato si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari per poter portare avanti un discorso di sicurezza igienica. Quindi benvenga una proposta di legge di questo genere. La norma ha un ambito di applicazione specifico e quello delle piscine, degli agriturismi, campeggi e strutture simili che sono ad uso pubblico ma riservato ai soggetti che sono alloggiati. Per questa categoria di piscine era possibile secondo la normativa nazionale prevedere da parte della regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni tre anni quando ricorrono alcune condizioni e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina che verranno dettagliate in un regolamento che la giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia al fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale superficiale della piscina, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno ma che se fatti in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante perché svuotare una piscina vuol dire tantissimi litri e litri di acqua che vengono sprecati e così vengono invece riempiegati e anche un minor costo per gli esercenti delle strutture stesse. Questa è una legge molto importante che va incontro alle esigenze di tutti coloro che hanno una piscina soprattutto ad uso ovviamente pubblico e collettivo così così come è definita e come tale non soltanto alberghi, agriturismi, attività in campagna, condomini ma non solo strutture che poi danno opportunità di utilizzare piscine ad uso pubblico. La possibilità di non dover svuotare ogni anno l'acqua è un elemento che da una parte comporta un grandissimo risparmio economico, dall'altra una grandissima risposta in termini di risparmio idrico, la risorsa acqua sappiamo con bene imprescindibile, fondamentale, bisogna tutelarle come tale bene che si possa verificare su base annua e non solo ovviamente il rispetto di alcuni parametri, questo può impedire di dover svuotare tutti gli anni le piscine che dovrà essere fatto, potrà essere fatto ogni tre anni, è una cosa è farlo tutti gli anni, è una cosa è farlo ogni tre anni e questa norma io mi auguro poi possa diventare ovviamente strutturale e consentire a tutte le nostre strutture ricettive e non solo di avere anche un alleggerimento dei costi e soprattutto un risparmio della risorsa idrica. Possibili nuovi bonus per le famiglie, presentata una mozione in consiglio rivolta alla Giunta che chiede la possibilità di estendere la platea dei beneficiari della misura Nidi gratis, grazie ad un avanzo di risorse stanziate per questo scopo. Con questa mozione noi chiediamo alla Giunta di estendere la platea dei beneficiari della misura Nidi gratis e lo facciamo sulla scorta del fatto che dopo il primo anno di applicazione dei 40 milioni stanziati ne sono stati impiegati soltanto 31 milioni e mezzo e questo ha interessato il 58% dei bambini che frequentano i nidi. Ci sono margini di aumentare di tanto la frequenza dei nidi della Toscana che si pone all'avanguardia su questo settore arrivando ad una media prima tra le regioni italiane al 43%, però noi riteniamo che il nido sia una parte integrante del sistema educativo dei bambini e quindi debba essere, come dire, ampliata al massimo la possibilità di partecipare a tutti i bambini di qualsiasi condizione sociale, di qualsiasi condizione economica. A margine dei lavori del Consiglio regionale la Commissione Affari Istituzionali ha fatto il punto sull'attività del difensore civico che ha il compito di agevolare la soluzione dei conflitti fra cittadini e istituzioni. Questa mattina abbiamo avuto l'occasione in Commissione presso il Consiglio regionale di raccontare questo primo anno intenso di lavoro come difensore civico per l'anno 2023. Le istanze che sono state presentate sono 1.636. Al di là dei numeri abbiamo anche spiegato un po' il nostro approccio, cioè quanto è importante che poi questi numeri, cioè l'azione di tutela che svolge il difensore civico, sia il più possibile un'azione di qualità. E quindi ci siamo impegnati per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria delle istanze, ma anche cercando di costruire un dialogo proficuo con i cittadini, ma anche con le pubbliche amministrazioni a cui ci rivolgiamo, per chiedere, sollecitarle anche ad un rapporto che sia il più chiaro e trasparente possibile. Quindi cercare di migliorare reciprocamente il nostro rapporto, il supporto che anche come difensore civico possiamo dare ai nostri cittadini. Allora, il vostro slogan è il difensore civico tutela anche te. Ed è completamente gratuito. Quindi quali sono le materie su cui i cittadini possono chiedervi una mano? Sì, i servizi che offre il difensore civico sono completamente gratuiti. Un'attività molto importante a cui noi teniamo molto è quella, per esempio, di conciliazione con IT e quindi sul servizio idrico ed è un'attività che viene svolta dai funzionari dell'ufficio che sono ormai formati, hanno una competenza consolidata ed effettivamente i risultati delle procedure sono sempre piuttosto positivi. Quindi è importante sottolineare anche questa gratuità che però corrisponde anche ad una competenza che arriva da un po' una tradizione storica del difensore civico della Toscana. Noi poi ci occupiamo veramente di tutto, ci occupiamo chiaramente dell'ambito sanitario e il nostro sforzo ulteriore è stato quello di costruire un rapporto diretto e proficuo di confronto con le aziende sanitarie attraverso gli URP. Siamo anche impegnati per diffondere la conoscenza del difensore civico nel territorio regionale, quindi attraverso i nostri sportelli di difesa civica. Una cosa importante, abbiamo anche oltre a lo slogan, abbiamo rinnovato anche interamente il sito del difensore civico e attraverso il nostro sito è possibile per cittadini e associazioni presentare attraverso un modulo la propria istanza di tutela. Quindi anche in questo diamo un supporto, una guida al cittadino, è importante però che il cittadino a sua volta si senta responsabilizzato quando si rivolge a noi, quindi che ci fornisca una documentazione completa, che segua anche i passaggi di cui noi abbiamo bisogno, quindi che inizialmente interagisca con la pubblica amministrazione e poi arriviamo noi se necessario per fare da tramite, fare in modo che le azioni reciproche siano il più possibile soddisfacenti per un po' la comunità. È stata quella appena passata anche la settimana del Salone del Libro di Torino. Fra le iniziative la Regione Toscana ha organizzato un treno dedicato ai lettori e agli autori toscani che ha portato 450 persone nel capoluogo piemontese. Nello stand della Regione è stato poi dedicato un incontro per commemorare il centenario dalla morte di Matteotti alla presenza di Aldo Cazzullo. Un evento che si è svolto domenica 12 maggio e che è stato forse l'appuntamento più significativo dello stand toscano. Il Consiglio regionale ha collaborato a questo evento posto nel calendario ufficiale del Salone del Libro di Torino. Stamattina nella Sala Oro del Padiglione Oval abbiamo ascoltato Cazzullo raccontare le parti del suo libro in cui si affronta il tema delicato del ruolo di Mussolini nell'omicidio Matteotti e tutto quello che ne conseguì e le rete di relazioni che furono toccate da questa truce e turpe vicenda come molte altre che caratterizzarono quell'epoca. È un momento importante, è un centenario che ci ricorda che, come ha detto Cazzullo, se oggi non riusciamo a mettere una lapide a Roma con su scritto Giacomo Matteotti ucciso dal fascismo, abbiamo davvero un problema, benché problema sia una parola antipatica che non ci piace usare. Noi siamo orgogliosi che il Consiglio regionale e che la Toscana siano stati a fianco di Aldo Cazzullo in questo momento importante dal valore non soltanto letterario ma soprattutto civile. Ma evidentemente non è una memoria condivisa, tant'è che non è stato possibile mettere sul muro della casa dove viveva, dove fu rapito Giacomo Matteotti una lapide che lo ricordasse in quanto martire, insomma vittima del fascismo. Purtroppo l'Italia è così, quello che possiamo fare è ricordare. È ovvio che, siccome poi quando uno dice queste cose gli dicono ah ma tu stai dice che sta tornando al fascismo, ovvio che non sta tornando al fascismo. Ci sono però ancora in Italia molti fascisti e molte persone che non hanno un giudizio negativo del fascismo perché non sanno o non vogliono sapere quello che il fascismo ha rappresentato nel nostro paese. Giacomo Matteotti è una figura luminosa, una figura di socialista riformista, un socialista che non voleva la rivoluzione, voleva migliorare le condizioni dei lavoratori e si scontrò con Mussolini quando invece Mussolini era un massimalista, un rivoluzionario e poi divenuto fascista lo ha fatto ammazzare. È giusto ricordarlo come fa la regione toscana non solo come martire ma come uomo di pensiero, uomo di coraggio, un uomo che dimostra che la politica può essere fatta al servizio dei cittadini. Era già il leader giovanissimo del partito socialista unitario che a rispetto del nome nasce da una scissione quando se ne vanno i massimalisti. Sarebbe stato un dirigente che avrebbe reso l'Italia un paese migliore come lo erano Giovanni Amendola, liberale, come lo erano Piero Gobetti, liberale, come lo era Antonio Gramsci, comunista eretico, marxista critico, come lo era Don Giovanni Minzoni ucciso a bastonate, come lo era Don Sturzo costretto all'esilio, come lo era Alcide De Gasperi imprigionato. Il fascismo, con molte cose negative che ha fatto, ha privato l'Italia di una classe dirigente che l'avrebbe governata meglio di come ha fatto Mussolini. Non facciamo paragoni con il passato, il passato non torna e ci mancherebbe altro che tornasse. Le cose non succedono mai allo stesso modo o con lo stesso nome. Quando vediamo che ci sono ancora xenofobia, nazionalismo esasperato, raffismo, guerra, non vuol dire che sta tornando il fascismo, vuol dire che alcune idee del fascismo non sono morte e tocca a tutti, alla destra di governo, per prima, combattere queste idee. Cronaca e i commenti si conclude qui. Grazie di averci seguito anche per questa puntata. L'appuntamento è ogni settimana, alla stessa ora, con la trasmissione che vi racconta quello che è successo nell'ultimo Consiglio regionale. Tra l'altro la prossima settimana si riunirà il parlamentino toscano con nuovi argomenti.